Ci siamo, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Mattia e oggi andremo a vedere da vicino le differenze tra Panasonic GH5S che è questa qua e la Panasonic GH5 che abbiamo anche già recensito e visto sul canale più volte e poi la camera che mi accompagna da diverso tempo. Questo confronto tra l'altro è tipo un anno e mezzo che mi sarebbe piaciuto poterlo fare e oggi siamo arrivati al momento, al giorno clou. Perché? Perché questa GH5S, questa versione, questa S, questa shooting, shooting è qualcosa di davvero magnifico e poterla vedere qui da vicino proprio con i miei occhi e poter fare anche questo confronto in camera mia vi assicuro essere qualcosa di emozionante per me. Intanto voi state vedendo le varie camere e noterete sicuramente una differenza palese in termini di resa dei colori. Tenete presente che le ottiche sono le stesse, le configurazioni in camera, quindi profilo colore, calibrazione proprio del profilo colore della camera, ISO, shutter speed, bilanciamento di bianco, è tutto identico ma la resa che si ha tramite la GH5S rispetto alla GH5 è parecchio diversa. Infatti si ha una gamma cromatica, soprattutto i toni della pelle, l'ho notato poi nei vari video fatti fino ad oggi, perché gli ultimi sono stati tutti girati con la GH5S, sono davvero diversi. In più adesso noterete anche una qualità, proprio una definizione del video ancora migliore nel caso della GH5S, proprio perché stiamo utilizzando un profilo DCI 4K che è praticamente 4096x2160, quindi abbiamo un'immagine leggermente più larga, che è poi il formato che utilizzo per gli episodi, e ancora più definita. Mentre la GH5 adesso sta riprendendo a 60p come l'altra, quindi 60 fotogramma al secondo, ma in 4K 3840x2160, quindi classico. La qualità è sempre buona, qui però riusciamo ad avere uno step in più, un gradino in più. Quella invece davanti è la classica GH5 con un'ottica assolutamente nuova che vi mostrerò prossimamente, che ha il 10-25. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Innanzitutto vi lascio la sigla e poi vi racconterò tutte le differenze e anche le esperienze nell'utilizzare questa camera come camera principale, perché proprio per un po' ho dimenticato la GH5, ho utilizzato solo questa, anche per le foto, e non è andata male, anzi sorprendente. Quali sono le differenze tra queste due GH5? Tra l'altro è nata ad un anno esatto di distanza, perché 2017 GH5 e 2018 GH5S. A livello di feature e di possibilità creative abbiamo bene o male le stesse possibilità, se non che con la GH5S riusciamo davvero a spingerci oltre nel mondo, non dico notturno, ma quantomeno di low light, e vedremo tra poco quanto questo nuovo sensore con questa nuova tecnologia farà la differenza. In termini di qualità video e foto, la GH5 è il giusto compromesso, perché permette ai fotografi e ai videomaker di esprimersi al meglio. È praticamente l'unione tra le due necessità, tra i due mondi. Per chi fosse un filmmaker, sicuramente la GH5 potrebbe risultargli limitata in alcune situazioni, ma per chi invece facesse entrambe le cose, quindi sia foto che video, questa è la macchina giusta. La GH5S invece è rivolta proprio al mondo dei videomaker, ma non è solo questa, perché anche a livello fotografico si sa difendere bene. La nuova tecnologia del sensore della GH5S si chiama Dual Native ISO, ti parlo proprio direttamente, e questo sensore da 10 megapixel permette di realizzare foto fino a 10 megapixel a 14 bit, mentre invece la GH5 va a 12. e posso assicurarvi che non è stata male la resa fotografica di molti degli scatti fatti con la GH5, non solo di notte, anche di giorno, anche con shutter speed elevati e una ISO 100, quindi una cosa veramente classica, standard, la resa fotografica, la qualità, la definizione della foto non era niente male, quindi tu hai GH5 e devi darti un po' la mossa. Il grande poi plus di questo sensore è quello di poter raggiungere ISO pazzeschi. Se arriviamo fino a 204.800, c'è un numero impressionante, la GH5 va a 12.800, quindi proprio non c'è storia. Infatti adesso state guardando un confronto fatto da due angolature differenti, ma con le stesse condizioni di luce, medesimi settaggi, medesime ottiche. La GH5S era settata in DCI 4K, sarebbe Digital Cinema Initiative, quindi arriviamo a 4.096, mentre invece la GH5 era in 4K a 60p, entrambe a 60p e come potete vedere dopo un po' la GH5 non va oltre, mentre la GH5S è quasi in grado di trasformare la notte in giorno. Davvero notevole, ovviamente in quel caso avremo un rumore. A pari ISO tra GH5 e GH5S c'è una riduzione del rumore davvero impressionante. Oltre che i colori resi in modo totalmente diverso con questa scarsità di luce. La GH5, dobbiamo difenderla, dal canto suo ha un grande plus, che è il sensore da 20 megapixel stabilizzato. E il plus di questo è che nel mondo fotografico e nel mondo video, quando non abbiamo stabilizzatori o cavalletti, la GH5 insieme poi alle ottiche stabilizzate internamente riesce a dare un risultato di stabilizzazione davvero notevole. Mentre camminare con la GH5S io non ve lo faccio vedere, ma è davvero da mal di mare, perché è stata pensata per un utilizzo professionale, quindi deve essere accompagnata da uno stabilizzatore oppure da cavalletti, insomma gestita in situazioni diverse da quelle classiche travel volendo della GH5. Ha anche un prezzo notevolmente differente, infatti su Amazon si trova la GH5 a 1300-1400 euro, vi lascio poi il link ad entrambe le camere, a ottiche consigliate e poi al canale Telegram per restare aggiornati sulle novità. E la GH5S invece è sui 1900-2000-2100, insomma quasi si passano 1000 euro di differenza, proprio perché le nuove feature e le nuove tecnologie integrate inserite in questa GH5S la rendono davvero speciale e forse anche un gradino meglio rispetto alla GH5. Se non fosse per un utilizzo da esterni in fase di vlog sarebbe davvero la camera perfetta. Purtroppo però questa stabilizzazione serve e questo per la GH5 è davvero un punto di forza. Continuando a parlare di sensori, sulla GH5S non abbiamo sensori stabilizzati, lo abbiamo fisso, bloccato proprio, incollato sulla camera. Questo perché la GH5S è stata pensata con un utilizzo professionale, quindi accompagnata a cavalletti oppure stabilizzatori, galcam, insomma utilizzi professionali che prevedano stabilizzazioni esterne. Non l'abbiamo più interna, ma abbiamo un sensore con quelle feature e quella sensibilità e anche questa gamma colori davvero notevole. L'autofocus che è uno dei punti critici della GH5, lo sappiamo, è credo l'unico punto critico, il tallone d'Achille proprio, e nonostante Panasonic abbia fatto tutta una serie di update, ancora non siamo riusciti a raggiungere un livello davvero al pari di Sony e di Canon. Con la GH5S abbiamo bene o male gli stessi problemi, sono riuscito però a migliorare dopo varie prove l'autofocus inserendo l'autofocus ad area, quindi andando a creare quel box all'interno del quale il soggetto è sempre a fuoco e così facendo ho notato che è invece migliore rispetto alla GH5, classica, non esse. Infatti avvicinando soggetti, avvicinando, adesso non volevo proprio tirarvi un pugno, però avvicinando, come potete vedere, la messa a fuoco è migliore, è più veloce, mentre invece la GH5 un pochetto ci pensa, nonostante siano settate entrambe nello stesso modo. A livello di configurazione, a livello di possibilità, sulla GH5S abbiamo diverse configurazioni che non abbiamo sulla GH5. Per esempio abbiamo un controllo dell'audio maggiore, proprio del ingresso del microfono, abbiamo poi alcune voci che la GH5 non ha e abbiamo anche delle risoluzioni che la GH5 non ha. Quella risoluzione DC sulla GH5S arriva a 60 fotogrammi al secondo, mentre sulla GH5 ha 24. E poi anche abbiamo il profilo vlog installato in camera, mentre sulla GH5 va acquistata a parte e fatto l'upgrade poi con il codice. E quindi sono altri 100 ore in più, qui invece ce l'abbiamo già. E poi abbiamo modo in camera di regolarci gli aspetti ratio direttamente sul display, cosa che la GH5 non ha. In conclusione sono molto contento di aver potuto testare questa GH5S con tra l'altro le mie stesse ottiche, proprio per vedere le differenze che vi ho raccontato in questa review. È un'ottima macchina e mi spiace doverla restituire a Panasonic, che ringrazio e saluto per la gentile collaborazione e concessione. È davvero performante e per quello che faccio, per il mondo del videomaking, è proprio la macchina giusta, la versione giusta di GH5. Con la GH5 classica, diciamo così, mi sono però molto e mi sto molto divertendo nel mondo fotografico. Infatti su Instagram, per chi mi segue, avrà visto tutta una serie di foto fatte con la GH5 e la qualità, come dicono alcuni, è proprio stunning, perché la qualità della camera c'è, non c'è poco da dire. Mentre la GH5S, sul mondo fotografico, purtroppo ancora qualcosina deve migliorare, anche se questi 14 bit ci danno una resa sempre cromatica migliore rispetto alla GH5. Però abbiamo meno qualità, perché il sensore è da 10 megapixel. Anche le foto in RAW sono più leggere rispetto alla GH5. Sono comunque entrambe macchine valide, validissime, e personalmente, se potessi consigliare l'acquisto a qualcuno, consiglierei di scegliere la GH5 se il compromesso tra foto e video fosse proprio necessario, se il mondo fotografico fosse davvero importante. Altrimenti, se fosse un utilizzo da 80% video e 20% foto e i video fatti o con cavalletti oppure con stabilizzatori, come magari anche il running che abbiamo visto qualche giorno fa, direi GH5S tutta la vita. Spero questa review vi sia piaciuta e mi piacerebbe poi avere il vostro feedback, come sempre, lo dico in tutti i video oramai, vi aspetto nei commenti. So che tanti di voi utilizzano la GH5S e altri la GH5S, ma vi piacerebbe mi scriveste un pensiero su questo confronto, su questo match tra le due. Vi aspetto per il prossimo episodio, un saluto e buona continuazione su YouTube. Ciao!